Tre incidenti in poche ore, un soccorso a Pratola Pellinia e questo il bilancio del temporale estivo che ha creato non poche criticità alla viabilità a Pellinia. L'ennesimo incidente stradale si è verificato dopo le 16 sul ponte San Panfilo di Sulmona a scontrarsi due auto, una Fiat Panda e un Apollo. Sarebbe stata la Panda secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia intervenuta sul posto per i rilievi di rito a rimanere intraversata nella carreggiata, probabilmente per l'asfalto reso vicino dalla pioggia, e urtare l'altra auto, l'Apolo. Il bilancio conta complessivamente tre feriti non gravi di cui qualcuno trasportato anche in ospedale per gli accertamenti precauzionali del caso, mentre tocca alla polizia accertare eventuali responsabilità. L'ennesimo incidente, come detto, si richiede prudenza durante le giornate di pioggia in quel tratto stradale, ma gli automobilisti continuano a sollecitare la posa dell'asfalto drenante per avviare a questi incidenti continui, quasi un rituale della cronaca. Un altro scontro all'incrocio di Viale Costanza tra un fuoristrada e una Seat nessun problema per gli occupanti del mezzo. E poi ancora un'auto uscita fuoristrada in Viale Europa, un episodio ad onor del vero non degno di nota. Ma il maltempo ha provocato anche l'allegamento di via Trieste a Prato-la-Pelinia, con un'auto che è rimasta impantanata con alcuni bimbi all'interno. Paura per loro. Grazie ai passanti si è risolta una situazione delicata. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri per il lieve diritto e della saca, perché probabilmente l'allegamento di quella zona è dovuto al funzionamento delle pompe idrobore. Anche in questo caso tutto si è risolto per il meglio.